I finanzieri della compagnia di La Mezzia Terme hanno sequestrato 13.000 articoli contraffatti, prevalentemente giocattoli recanti famosi brand di note serie televisive di successo, e 1.600 articoli di vario genere, tra cui materiale elettrico ed informatico, privi delle certificazioni minime di sicurezza e indicazioni per il consumatore. I giocattoli, oltre a recare marchi falsi, erano privi delle informazioni sulle caratteristiche, dimensioni e componentistica delle parti presenti e delle indicazioni relative alla fascia di età. Gli articoli avrebbero potuto provocare danni alla salute dei bambini. Gli accessori elettrici ed informatici non erano corredati nemmeno delle specifiche avvertenze per l'utilizzo e recavano il marchio C falso, ingannando il consumatore finale. Grazie alla collaborazione del CNR di Cosenza sono state sequestrate anche quasi 4.000 mascherine FFP2 per bambini. La vendita al dettaglio di tutti gli articoli sequestrati avrebbe fruttato almeno 70.000 euro. Sono state denunciate a piede libero 15 persone, con l'accusa di introduzione e commercio in Italia di prodotti con segni falsi. Due soggetti sono stati segnalati alla Camera di Commercio per adozione dei provvedimenti di competenza. Rischiano una sanzione amministrativa fino a 25.000 euro.